Oltre a 10 punti di scarto rispetto alla media nazionale, la provincia di Foggia alle 22 di ieri sera, ultimo dato registrato dal Viminale, consegnava un'affluenza ai seggi del 31,84%, il più basso della regione che si attestava al 35,71% in coda al dato nazionale che sfonda la soglia del 40%, data come indicativa dell'andamento delle urne volando oltre il 41%. Punte di eccellenza in ogni caso in Capitanata, Orsara di Puglia, il comune dove si è registrata la migliore performance democratica con quasi il 48%, Celle e San Vito al 45%, Deliceto e Volturino al 41%, la città di Foggia si ferma al 34%, Fanalino di Coda, Peschici, solo il 13% degli eventi di ritto alle urne fino alle 22 di ieri, complice evidentemente anche la Domenica di Sole che ha portato a scegliere le spiagge della cittadina garganica piuttosto che il grigio del seggio. Male anche per Carpino con il suo magro 16% e Vico poco più del 17%, determinante saranno i voti che affluiranno oggi, urne aperte da stamattina alle 7 fino alle 15, meno di un'ora dunque ancora a disposizione, 4 lo ricordiamo i quesiti contenenti leggi del Parlamento, votando sì si sceglie di abrogarle, votando no di mantenerle in vita, due riguardano la modalità di gestione ed affidamento del servizio idrico e pubblici locali in generale e determinazione della tariffa, scheda rispettivamente rossa e gialla, scheda grigia il nucleare, vale a dire l'abrogazione di quelle norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare, quarto scheda verde legittimo impedimento, abrogazione della legge dell'aprile 2010 destinata ai membri di governo, incapitanata all'influenza e stata sinora identica per tutti e quattro i quesiti. Grazie.